Te ho già raccontato le redling e io proverei Ho voluto fare di nuovo l'esperienza da qui Pino al 1952 hanno dei prodotti che sembrano delle scarpe da Sadomaso poi arrivano loro 877 che hanno questo colore che richiama il colore del pelo dei setter irlandesi per la caccia e poi per il lavoro in fabbrica e poi ancora diventano scarpe di stile. A mano negli Stati Uniti 230 passaggi per essere creata. Sono resistenti all'acqua, alle macchie, sono trattate con un olio speciale. Brutte! Ma sono bellissime! Ti trovi in dei siti online solitamente non italiani e in qualche negozio. Questo modello alto non è facile da trovare in Italia. Le ho ordinate da Marottaformia. costa 350 euro. Dalla rottaformi dici che segui Matt e avrai il 15% di sconto. Vai sul sito americano di Redwing e inserisci il modello che vuoi acquistare e che hai acquistato ti suggeriscono i prodotti giusti. Il primo che è un protettore per la pelle, questo per pulire la la spazzola in crine di cavallo lucido neutro. Oltre a lucido neutro è bene ordinare per questo modello un olio specifico. Puoi provare o con del dentifricio bianco piano piano con lo spazzolino oppure alcuni utilizzano uno sgrassatore. Per manutenzione straordinaria ci sono i service di Redwing. Ce n'è uno a Milano, in via Mamedi, al Visi. Da è una svolta una scappiera, non pensarci più. Fatele anche tu. Grazie.